Solo i primi cinque equipaggi così classificati saranno ammessi alla seconda giornata. Le squadre che avranno conquistato le bandierine saranno trasportate via Fiume fino a Chicken Falls, dove passeranno la notte. E domani a 10 punto riprenderanno la notte, e non te lo do. Voi tutti siete qui convenuti per rappresentare i nostri college e le nostre università. Siete venuti per partecipare a un avvenimento che anno dopo anno dimostra che il buono, sano, spirito competitivo americano è sempre vivo. E prima che la gara abbia inizio vorrei ringraziarvi per la partecipazione, augurarvi buona fortuna, un felice percorso e che vincano i migliori. E' lui, eccolo lì. Eccolo lì il maledetto. Mi vendicherò di quel figlio di puttana fosse l'ultima cosa che farò. Allora ragazzi siete pronti? Uomini ai loro posti!